Applausi per qualche abbastanza perché questo dibattito con un video è coinciso con l'inizio degli asteggiamenti del nostro Santo Padre per cui ci è stata anche sempre ci è stata una processione che mi ha portato a via a quasi una trenta a quarantena ma sono veramente contento di essere qui stasera per cui vi ringrazio veramente con il cuore vi ringrazio Padre Arcaccio, caro tu mi piace che è andato via avrei voluto che ascoltasse anche queste mie poche parole e lo ringrazio perché ve lo avevo mi ha dato la possibilità di intervenire sono Rosario io sono quanto commosso una storia emozionale e vi ringrazio anche i miei concittadini che sono qui presenti e che vogliono sapere esclusivamente la verità per tranquillizzarsi per tranquillizzare i loro familiari per tranquillizzare tutti i loro parenti e le persone investiti e allora giustamente ha detto il presidente il presidente Ciro ha detto che è un quartiere giovane questo nato 30 ma con delle negatività che sono evidenziate e che noi tutti quanti insieme dobbiamo cercare di eliminare ma quello che interessa in questo momento ai miei concittadini è sapere se nonostante queste negatività già esistenti da te e che dobbiamo eliminare se questo quartiere o l'interna zona o la zona a confine con l'arma debba subire ancora uno di quegli eventi che devono mettere in pericolo la salute dei nostri concittadini e la salute di tutti i quartieri e allora io in qualità di responsabile della salute dei vecchi concittadini e in qualità del campo di un'amministrazione che si è dato soltanto un obiettivo quello del bene comune mi dispiace che il professor ma ruffetto la settimana mia per motivi di lavoro ma sicuramente mi guiderò insieme al professor Ionio per non dare soltanto la descrizione di qualcosa ma dei suggerimenti per poter migliorare insieme ciò che è da migliorare e allora io posso dirvi con esattezza che non dobbiamo e ci dobbiamo interessare in altre cose insieme al professor e insieme al professor io devo interessarmi al professor Ionio di come migliorare il territorio per contenere e limitare quelle patologie neopastiche che sicuramente sono in aumento in tutto il territorio nazionale perché non abbiamo problemi per il biomasse perché finché l'amministrazione verrà finché il simbolo sterile verrà non verrà realizzato nessun impianto diventato biomasse per la produzione di energia diretti questo lo sa questo lo sa anche l'arri che dialoga con sé dialoga con qualche parte o con qualche istituzione ma questo lo sa talmente che lo sa che il suo presidente e la persona di Bagliano si siederà andato con il sottoscritto scontato quando in una conferenza di servizi che deve essere istituita dalla regione Campania noi andremo al manovamento di quel progetto perché niente sta realizzato di quel progetto in alto di tempo ma questo è il mio governo quale si usa dalla città di Casoria quello di dovervi dire come vi devo dire e vi devo ringraziare per ciò che state facendo per quanto riguarda il procedimento e il processo della differenziale differenziale che nasce nel 2 milioni e che accettiamo già il primo obiettivo che quello del 35 per cento dato ufficiale avvengono del 2010 con premio di contenitori e roletti o finanziamenti regionali e provinciali che abbiamo avuto quasi un milione e mezzo di euro e voi lo vedete con gli autocombattatori che girano per la città di Casoria perché sono stati investiti in queste attrezzature qua gli autocombattatori della città della nostra casa anche noi dell'emergenza sia ad un livello superiore come gli altri ma questo grazie a voi e grazie a voi e noi sicuramente tutti quanti insieme anche con l'aiuto di tutti i dipendenti di Casario Arbiet ma con l'aiuto costante anche delle associazioni delle associazioni della protezione civile che ci stanno dando una grande una grande mano da qualche settimana da qualche settimana noi sicuramente al 21 dicembre del 2011 noi ci entreremo un altro obiettivo che è vitale perché veramente che la storia sia scoperto da campagna da conventori e da qualsiasi altro attrezzatore perché vuol dire che in noi c'è la grande intelligenza la grande capacità di aver assorbito tutti i processi e procedimenti della differenziata vediamo e abbiamo dato alla nostra casa i nostri giovani una casola che sicuramente dal punto di vista del territorio qualitativamente è superiore di quanto noi l'abbiamo avuto con prosegna e vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti